Il più anziato di aver segnato una doppietta in Serie A, il più grande artista del nostro calcio, il più grande artista del calcio italiano ha smesso di giocare, ha smesso di giocare Francesco Totti e l'ultimo regalo è la Roma Champions League. Grazie per la visione! Grazie per la visione! In the eyes of a teenage crystallized, all the prettiest of lights that hang the hallways of the room. And the cries from the strangers out at night, they don't keep us up at night, we have the curtains drawn across. We are living in a dream, where the lights and body seals, everything's mess. And all of the sorrows I have seen, they make me to leave, everything's mess. I wanna dream, I wanna dream, leave me to dream. One of the dive, amen! And all the sorrows I have seen, I wanna dream. And all the memories I have seen. And the good really's par属 Maarisa, omicreni Okay. Grazie a tutti